Salve bambine e bambini, voglio raccontarvi una favola intitolata Sibilla e il cavaliere errante. Essa riguarda la leggenda della maga Sibilla e si ispira al romanzo di Andrea da Barberino scritto nel lontano 1410 intitolato Il guerrì meschino. Le bellissime illustrazioni del libro sono di Giordana Galli ed è edito da Fass di Ascoli Piceno. Quella che vedete nella foto sono io sui prati del monte Sibilla un po' di tempo fa. Sì, perché la montagna esiste davvero e forse anche la maga Sibilla. Lo scopriremo insieme. Buon ascolto. Sibilla e la montagna incantata. C'era una volta una montagna grossa, tonda e incantata, talmente grossa da contenere un castello, tante colline, laghi e boschi. Sulla vetta c'era una grande apertura dove il vento soffiava portando nella pancia della montagna tanti oggetti dal mondo di fuori e dove la luna e le stelle si calavano ogni tanto per illuminare quel regno sotterraneo. Nel castello, circondato da profumatissimi fiori e farfalle colorate, viveva la maga Sibilla, una fanciulla bella ma assai capricciosa. Quando si metteva in testa una cosa doveva ottenerla a tutti i costi. Le sue ancelle, le fedelissime fatine che vivevano con lei, lo sapevano bene, per questo passavano il tempo a cercare di accontentarla in tutto. Sibilla, dagli occhi vispi e capelli neri come il carbone, indossava sempre un cappellino bianco spruzzato di stelline d'oro. Tutti pensavano che la sua magia risiedesse in quel prezioso copricapo, visto che non se ne separava mai, e invece la fanciulla nascondeva i suoi poteri magici in una treccina di capelli che il vento aveva raccolto nei villaggi di fuori e portato a lei attraverso l'ampia apertura sulla vetta della montagna. Non appena la maga strofinava la treccina, ecco che ogni essere vivente attorno a lei si trasformava secondo i suoi desideri. Grazie a essa riusciva anche a vedere quello che succedeva in ogni angolo della terra, a leggere il futuro degli uomini e delle donne e persino a scoprire tutti i segreti mai svelati dalla notte dei tempi. Sibilla insomma con le sue magie riusciva a ottenere tutto, ricchezza, bellezza, potere e anche di vivere più della luna senza invecchiare mai. Ma niente poteva farla uscire da quel mondo incantato nella pancia della montagna. Come ci fosse finita nessuno lo sa. Fatto sta che la bella Sibilla nei giorni più ventosi dell'anno si metteva alla finestra della torre più alta del castello ad aspettare che qualche soffio d'aria le portasse un'altra magica treccina e che la aiutasse a uscire fuori dalla montagna. Da quella grande bocca sulla vetta però arrivavano sempre tanti oggetti che a lei non servivano proprio a niente se non a farla arrabbiare ancora di più. Fazzoletti, scarpe, secchi, fieno, calzoni bucati. La vita nel regno di Sibilla era fantastica e i suoi sudditi non avevano di che lamentarsi considerando l'abbondanza di cibo e bevande, la musica tutte le ore e le meravigliose danze delle fate ballerine nei giardini del castello. Tuttavia il carattere turbolento e capriccioso della maga Sibilla non li faceva mai stare tranquilli. Bastava poco per farla arrabbiare cosicché tutti i suoi sudditi si tramutavano in animali di ogni specie. La sorte per le sue ancelle non era da meno perché a ogni errore si vedevano trasformare in capre. La fama di bella, potente e magica regina della montagna si era sparsa in tutto il mondo e la voce giunse persino alle orecchie di Guerrino, il valoroso cavaliere d'Oriente che viaggiava alla ricerca di suoi genitori.